Assessore Riccardo Pozzi, siamo qua davanti al vecchio Palace di Vella dei Partigiani, i lavori proseguono insistentemente, c'è una data di inaugurazione che è stata confermata, quella del 29 febbraio, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Sì, anche oggi 3 gennaio si lavora a pieno ritmo al Palazzetto dello Sport, devo dire che anche le ditte che hanno vinto il secondo appalto, in particolare Zolfanelli, Impe e Gambini, stanno lavorando davvero con grande dedizione per rispettare quella che è la tempistica e la data annunciata dal sindaco del 29 febbraio. È chiaro, è un cantiere complesso, particolarmente complesso, non l'abbiamo mai nascosto ed entrare rispetto ad un intervento già iniziato è sicuramente un elemento di difficoltà, di complessità in più. Però devo dire che si sta lavorando tutti con questo grande obiettivo per riconsegnare alla città una struttura nuova, si può dire, nel senso una struttura che sarà in grado anche di fare accendere quella passione, e quelle emozioni che il vecchio Anger sapeva trasmettere, ma al tempo stesso una struttura, un auditorium scavolini appunto per una capienza tra i 1200 e i 1500 posti come in questo momento manca in città, per ospitare tutta una serie di eventi, iniziative culturali, convennistica e anche eventi sportivi che possono in qualche modo attrarre una capienza di pubblico di questo tipo. Sarà un palazzetto diciamo all'avanguardia, un palazzetto del 2024? Sì, un palazzetto tecnologicamente avanzato come richiedono oggi degli standard anche di qualità di innovazione importanti, questo anche grazie a un contributo del CTE, nel senso che la città delle tecnologie emergenti, che è questa grande opportunità che vivrà a Pesaro insieme alla capitale italiana della cultura, diventa anche un'opportunità per studiare delle innovazioni tecnologiche dal punto di vista dell'illuminazione e di altre sorprese che poi vedremo nel 2024. Un palazzetto su cui profitto anche per ricordare gli interventi anche di risestimazione che andremo a fare sulla parte di Viale Marconi, che in questo momento non sarà una piazza perché la coesistenza di due cantieri come quello del palazzetto, dei locali commerciali che dovranno sorgere al piano terra e al tempo stesso della piazza, era particolarmente complicato soprattutto per concidere questi tre cantieri rispettare la data del 29 febbraio, per cui in questo momento andremo a fare una sistemazione di quella parte di passaggio, di percorso pedonale, di marciapiede che gira intorno al palazzetto dello sport e poi successivamente andremo a rivedere l'idea progettuale che consente di dare più respiro al palazzetto dello sport.